allora buongiorno a tutti oggi faremo dei biscotti allora abbiamo messo tre uova una fialetta di rum 150 grammi di zucchero abbiamo messo 250 grammi di burro facciamo facciamo sciogliere un po il burro abbiamo messo tre uova no metteremo anche una un lievito bertolini e la farina quella che basta allora abbiamo aggiunto la farina l'abbiamo fatta abbiamo fatto lievitare tutto il composto adesso accendiamo il forno a 180 gradi per 25 minuti allora abbiamo fatto la prima teglia abbiamo messo sopra soltanto un pochino di zucchero e basta adesso inforniamo la prima e prepariamo la seconda dico i nostri biscotti finiti sono proprio belli fragranti abbiamo messo un po di zucchero a velo sono molto buon tutti Grazie.